Ciao ragazzi, bentornati sul canale e bentornati su War Thunder Come sempre, prima di iniziare vi invito ad iscrivervi al canale stesso se ancora non l'avete fatto Se volete provare il gioco completamente gratuito, il link è in descrizione Se volete acquistare giochi a prezzi super scontati, Instant Gaming è il sito che fa per voi, sempre il link in descrizione L'unità di oggi, mio malgrado e controvoglia, è l'Object 685 Un carro leggero sovietico, l'ultimo carro leggero che si può sbloccare del Tech 3 per l'appunto sovietico E' un carro, ve lo dico fin da subito, che a me personalmente non piace, non mi piace assolutamente nulla di questo carro Analizziamolo per capirci qualcosina in più Abbiamo un cannone da 140 colpi, metallatrice 7.62-2000 colpi Lancia granate fumogene per 8, velocità di rotazione torretta 14 gradi al secondo, brandeggio verticale meno 4, 17 Tempo di ricarica 6 secondi, tempo di ricarica che può essere ulteriormente abbassato attraverso la qualifica Che io personalmente non andrò mai a fare Una corazzatura, scafo e torretta praticamente inesistenti Verrete distrutti anche da una mitragliatrice, anzi da un cannone va? Mettiamola così, da un cannone da 37, da 20, già potete subire dei danni molto molto importanti Penetrazione 390 a qualsiasi distanza, davvero molto buona Equipaggio 3 membri, in totale abbiamo il pilota, il comandante e l'artigliere che guarda sempre il profilo Instagram di Devi Quindi fa bene Massa 16.5 tonnellate Una velocità massima di 70 che in realtà non verrà mai raggiunta Il carro si attesta, la sua velocità circa 50-55 Io personalmente 70 non l'ho mai visto su vari terreni Abbiamo poi le 3 BM25 come proiettile perforante che andrò ad utilizzare Il carro può portare comunque diversi proiettili Ha la visione notturna, ovviamente siamo a livello massimo Era 7 E non mi piace per vari motivi Potrei dirne subito uno se volete Il costo del carro è di 18.853 Voi direte, vabbè ma siamo in Era 7 Secondo me è un costo non giustificato per un carro che può essere distrutto anche solo guardandolo Quindi questa ovviamente è una mia opinione personale Poi, ripeto, sarà anche buono per altri Però io preferisco sicuramente altri carri molto più divertenti dell'Object 685 Ciò nonostante, andiamo a vedere un paio di gameplay con il mitico Object 685 Mi sono appena connesso in una partita iniziata Purtroppo il gioco si era disconnesso Quindi i nemici hanno avuto modo di giocare con un carro in più Non so che fare sinceramente Perché hanno preso completamente il controllo della mappa Il che è una cosa molto spiacevole Magari riesco, vediamo, a fare una kill Ma non di più C'è qualcuno sulla destra Beh, comunque non c'è male come kill Di rapina C'è qualcuno sulla sinistra Eh già Io aspetto che passa È vicinissimo Chi mi ha sparato? Da dietro? Allora, lui sta facendo il giro a quanto ho capito Dovrei incontrarlo sulla destra Vediamo se riesco a prenderlo Beh dai, due kill Fatte così Dopo essermi connesso Tardi Nella partita ci possono stare Ok Ok, non so come Non chiedetemi perché Non lo so Non mi interessa Abbiamo fatto una kill Un'altra kill Di rapina Il che è abbastanza Buona come cosa Abbiamo perso solo i cingoli Lui mi ha sparato completamente nel lato Però Non so Forse il colpo era troppo basso E quindi Non saprei giustificare questa Questa mancata kill da parte Del leopard Potremmo andare per il punto di bravo Però ragazzi come vedete I nemici hanno completamente il controllo Della map Quindi veramente È una partita disperata Proviamo Là ce ne sta uno L'ho visto Chiamata di artiglieria immediata Siamo troppo lontani E tra l'altro non è pronta E tra l'altro Arriva il mitico G91R3 Il carro Non ce la fa proprio A raggiungere 70 km orari E non è una questione Di mappa Di terreno Fa molta fatica Per assurdo Il KP070 È molto più agile Di questo carro leggero Il che è tutto dire Quindi È un carro che A me personalmente Non mi convince per nulla Però vabbè Ormai il gameplay Provo a registrarlo Chiamata di artiglieria preventiva Ovviamente Anzi Vi avete visto È stata anche Ritardata Nelle tempistiche Dovevo farla prima Vabbè Andiamo da questa parte C'è già qualcuno Dentro alfa Io a questo punto Proverei a Sì Ad andare esterno Questa volta Vado esterno Ci provo Dai Magari esterno Becco qualcosa Eh Ha avuto La mia stessa identica idea Quel Quel giocatore E anche questo qua Con il TDCM Il carro sovietico Pesante Vai Una Kill Leopard Perfetta Grazie comunque A chi ha lanciato il missile Perché è stato Il razzo È stato davvero molto Buono Come L'ha beccato in pieno Dovremmo essere molti Carri Sul settore di alfa Stiamo catturando TDCM Vai Bravo Ti do una mano Così capiamo alfa E facciamo un po' di Un po' di Crediti Dai Ma perché ci sono queste cose Che mi Fatti più avanti Eh vabbè Dai C'è qualcuno Sempre che deve rompere Critico Motore Ok Canna fuori uso Bravo il TDCM Molto bravo Che mi ha Ecco Culato ovviamente Io adesso Ti sparo La Eh vabbè È immortale Ti devo sparare Per forza La No Eh ma No Non puoi C'è È illegale Come cosa Non Non va bene Non va bene Ce ne sta uno Uno davanti a me Uno davanti a me Via 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 C'è Hai capito Dovevo mettere Eh vabbè dai Eh se tutto Ovviamente Come CVD Come voleva Si dimostrare Qui nel frattempo Cade di tutto Cioè Chi è che rompe Le scatole Ok Vai Qua tutti Prendono fuoco Sinistra Destra Io mi metto qua Aspetta Ok Il TDCM Ragazzi È arrabbiatissimo Si prende tutto lui Praticamente Io passo Me ne sbatto Rischio tutto Mi è andata Alla grande Che non ci sia Nessuno Ok Proviamo Ancora No 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 L'aereo È l'aereo L'aereo Eh vabbè Mi ha Mi ha fatto Malissimo Ma Io dico Perché L'aereo Deve rompere Le scatole A me Perché sono Il carro Leggero E quindi Mi fa Super male Stanno catturando Charlie Ce ne sta Uno davanti a me Praticamente qua È di nuovo Ma non è possibile Ma Perché Io non sono Ancora convinto Di questa modalità Notturna Devo ancora Entrare Nell'ottica Di gioco Eh Magari sarà Innovativa Tutto quello che volete Però Ripeto Ancora devo Abituarmi Abbiamo un carro Davanti a noi Tra l'altro E poi Una domanda I nemici Hanno la Visione Notturna Perché Senza Visione Notturna Io non Penso Che riescono A capire Qualcosa Ok Dobbiamo Considerare Anche Questa Cosa Non è Non è facile Trovare I nemici Anche con La visione Notturna Io sfido Chiunque A capirci Qualcosa In maniera Chiara Attenzione In maniera Chiara Avanziamo Ok Ok La zona L'ho capita Della mappa Dove mi trovo Però non ho capito Dove cavolo Si trova il nemico Ok A sinistra Serio No dai Non ti allargare Dai Rimani fermo Stiamo catturando Bravo Bravo Bravi Bravi Ragazzi Vai Continuiamo così Facciamo così E portiamo a casa Dai Facciamo in questo modo C'è qualcuno là Guardalo Eeeh Ahahah 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 Eh la kill però Scusa La risata E il gameplay Devo Devo prendere Visualizzazioni Ok Grazie Ragazzi Per questa giocata Eeeh Vedete voi Vedete voi Stanno catturando Charlie Ah Ahah Ok Ah mezzo metro da noi Ok perfetto Vedete si creano queste situazioni Alquanto Strane Però illumina bene Quando esplode E' un ottimo Un ottimo diciamo Esplode molto bene Da dove? Da casa sua? Da dietro? Maledetto Ragazzi Video terminato Lo ripeto Per l'ultima volta E' un carro Che sinceramente A me non convince E non piace Anzi Soprattutto non piace Perché magari può essere anche buono Come carro Ma ripeto ancora una volta Punterei su carri Molto molto Più divertenti Come detto Video terminato Io come sempre Vi ringrazio per i like I commenti E le visualizzazioni E noi ci vediamo Alla prossima Ciao 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 Ciao